Invece proviamo a venire a Schopenhauer, altro compagno delle tue mattine di lockdown. Allora l'ho trovato un personaggio fantastico, a parte il teorico del pessimismo, mi faceva molto sorridere questa idea, insomma un uomo comunque, certo che anche a voi avete avuto i suoi lutti, le sue sventure, ma un uomo privilegiato, fortunato, cioè se penso che lui è vissuto quando i miei nonni, penso ai genitori di mio padre, potevano essere piccoli quando lui era un ragazzo, beh loro mica andavano a scuola, mica andavano a seguire le lezioni in università, insomma lui forse ecco c'era questa grande inconsapevolezza anche della fortuna e del privilegio nel quale c'era. Bene, di Schopenhauer la pillola che voglio tirar fuori qual è? Allora lui è il teorico del pessimismo perché in fondo noi che cosa siamo? Siamo questi soggetti tutti noi uscillanti tra il dolore e la noia, udacemente dentro nel piacere ma poi subito l'insoddisfazione perché? Perché lui che veniva da una grande formazione kantiana sa che c'è questa spinta a chiederci, a domandarci ma noi siamo solo quello che percepiamo, siamo solo spazio, tempo, categorie, la dimensione del fenomeno, del nostro corpo, delle esperienze empiriche, Kant diceva probabilmente no ma quello che sta dall'altra parte razionalmente non lo possiamo né conoscere né raccontare né condividere e lui invece è un po' il filosofo della rottura e dunque dice il mio maestro Kant certamente aveva ragione, noi viviamo esperienze di fenomeni appunto anche di grandi fenomeni di dolore, prevalentemente lui porta il suo occhio di bue sul dolore però dice però secondo me dobbiamo anche poter pensare di rompere il velo di maia, di andare verso ciò che non è il fenomeno che è la realtà in sé e per lui è questa la chiama la volontà, questa forza irrazionale che ci domina, che ci anima e secondo lui anima tutti, anima il insetti, le formiche, anima noi e pensavo. Te ma guarda allora cosa fa questa volontà? Questa volontà ci fa cercare l'amicizia, l'amore, i sentimenti forti, i legami forti per farci riprodurre perché certo no per questa spinta irrazionale alla riproduzione di volere se stessa, la volontà che riproduce all'infinito se stessa in questo turbinio di eventi che mal sopportiamo e tu guarda e dico ma pensa un po' a sto virus. I virus tecnicamente funzionano così ma non sono esseri viventi. Allora te ho trovato anche un bellissimo fascicolo scaricabile dal sito di Le Scienze che risale a qualche anno fa mi sono documentata un po'. Allora questo grande dibattito anche tra gli studiosi sono micromolecole, macromolecole ma non sono viventi perché non sono capaci di replicazione autonoma. No ma forse lo sono. Insomma questo dibattito però se ci pensi ha segnato moltissimo, uno per esempio la politica universitaria, l'ultima cattedra di virologia risale ai primi anni 80 come cattedra autonoma perché si pensava più che altro non so alla biologia, alla microbiologia, allora non considerare i virus come un oggetto degno di attenzione, di indagine accademica e di studio scientifico a sé stante, autonoma, ma doveva essere studiato insieme ai batteri e ai miei altri microorganismi e questo e quell'altro benissimo e non ho nessuna competenza per dire se questo sia bene o male. Però in effetti il dibattito sulla definizione, la qualificazione di questi agenti capaci di replicarsi in un ospite che sia un ospite però vivente ha portato anche a qualche conseguenza da una parte. Dall'altra pensavo ma te pensa? Ecco noi abbiamo dibattuto per decenni o quantomeno per alcuni lustri sul fatto che fossero elementi viventi o non viventi però indipendentemente da questo tu guarda Schopenhauer aveva ragione, cioè anche nel virus che cosa? E questo è proprio un caldivo eh? E lui cerca disperatamente di replicarsi, di replicare se stesso, di riprodursi, di non soccombere e poi pensavo però noi siamo più fortunati perché se seguiamo la via di Schopenhauer per il superamento del dolore noi abbiamo a disposizione intanto oggi lui forse allora no ma oggi abbiamo a disposizione la scienza che ci dà questo distacco e questa capacità no di osservare e di capire cosa ci provoca dolore. Abbiamo la medicina si diceva prima delle cure palliative, abbiamo tanti strumenti oggi per contrastare il dolore fisico emotivo psicologico, il senso di abbandono. Lui viveva in un'altra dimensione, in un'altra realtà eccetera ecco questo. Abbiamo come diceva Schopenhauer la possibilità della contemplazione dell'arte e allora ho detto bene riscopriamo l'arte, la pittura, la letteratura in questi periodi di così grande dico delle banalità mi scuseranno. No 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 anzi assolutamente. Però insomma recuperare non lo so suonare uno strumento, leggere un testo che avevamo messo lì o che avevamo letto quando eravamo molto giovani con una testa diversa, con un'interpretazione diversa. Facciamo un po' quello che ci distacca, ci distanzia non tanto dal vissuto perché secondo me il vissuto doloroso non è che lo possiamo lasciare da parte, ci segna, resta dentro di noi. Però probabilmente diventiamo resilienti, cioè riusciamo a non a non soccombere, a non farcelo diventare ancora un problema che si autoalimenta in continuazione ma impariamo piano piano a gestirlo. Un bel quadro. Come dicevi tu a quel punto il dolore non è l'unica dimensione che ci definisce e l'arte è ciò che ci può dare quel respiro e quell'ampiezza e ci può ricordare appunto le altre dimensioni dentro di noi e fuori di noi come esperienza attraverso la bellezza, attraverso tanti aspetti che sono la chiave per poter fare i conti con questa sofferenza ma anche per renderla in qualche modo creativa perché se tu rimani inchiodato all'esperienza del dolore non c'è creatività nel dolore necessariamente purtroppo. No, non c'è via d'uscita e per dire per Schopenhauer nemmeno il suicidio era una via d'uscita perché avrebbe eliminato una piccola componente in una platea invece in un contesto che era predominante, che era maggioritario e che indipendentemente dalla scelta singola non avrebbe rappresentato un momento di liberazione. E un'altra cosa che mi piace recuperare di Schopenhauer l'idea della pietas nel senso della relazione con l'altro, una relazione disinteressata e autentica. Ecco in questo periodo in cui magari molte famiglie sono state separate, gli amici sono stati lasciati lontani, figurati io vivo con mio marito d'accordo ma ho dei carissimi amici però per dire io non ho più una mia famiglia, i miei genitori sono morti, non ho sorelle, non ho sorelle eccetera. Ecco l'idea insomma di recuperare quelle belle relazioni non strumentali, le persone con cui fa piacere parlare per il piacere di parlare, le persone che vedi via Skype, che senti, con cui ti messaggi, non perché le vivi come un peso, come dire, della retorica, della buona politica, delle relazioni e non possono rispondere, però poi ci resta male. Insomma... Qualcosa di nutriente, di profondamente effettivo. Sì, che sia auspicabilmente, speriamolo, biunivoco, ecco non solo in un'unica direzione. E' un po' questa dimensione, questa strada della ricerca del bello, della di estetica, della ricerca dei sentimenti forti, delle relazioni autentiche, ecco che sia con un partner, che sia con un amico, che sia col genitore, che sia con un familiare, con un congiunto e anche con chi non è congiunto. Ecco, insomma questa ricerca... O con la natura nel momento in cui finalmente si può uscire, anche questa è una connessione fondamentale ovviamente. Assolutamente, per chi si ritrova e ritrova insomma una propria altra dimensione nell'osservazione, nella contemplazione dell'ambiente che lo circonda o di quello che lo abita, di quello che gli sta dentro mi sembrava una buona cosa.